è dalle vacanze di primavera che non ci vediamo disse miss rosen com'è andata con tua madre abbastanza bene rispose courtney per un attimo la infastidì la familiarità che quella domanda implicava il suo estinto la portava sempre a ritrarsi quando si accorgeva che qualcuno aveva penetrato le sue difese ma poi si ricordò che miss rosen era un'amica come sempre era ancora sulla difensiva sapevano entrambe che non era vero ma l'insegnante attese pazientemente che le parole della ragazza fluissero sempre più intime perché quando erano sole courtney riusciva a esprimersi con libertà come non era mai riuscita con nessun'altra donna non riusciamo a comunicare punto lei non mi conosce davvero e ogni volta che mi vede durante le vacanze la situazione peggiora io mi confiderei se solo potessi proseguì ma il fatto è che con le donne non si può parlare non usano il cervello in modo lineare come noi quando provo a dire qualcosa loro prendono il volo e finiscono su un argomento secondario solo vagamente attinente questa cosa mi manda in bestia e tu non ti consideri una donna disse miss rosen divertita no direi di no rispose courtney dopo averci pensato su non ragiono allo stesso modo gli uomini mi dicono sempre che io penso come un uomo sarebbe tutto più facile se lo fossi davvero immagino o forse no probabilmente continuerei a disprezzare le donne per non parlare del fatto che sarei una checca bel pasticcio miss rosen rise di quell'ingenuità davvero vorresti essere un uomo beh il fatto è che da quando ho memoria sogno di essere un uomo ora non ci faccio più caso sono io solo al maschile mi chiedo come mai riflette hai detto che i tuoi genitori speravano tu fossi un maschio e che tua madre ti chiede di prepararle i cocktail e di occuparsi di lei come farebbe un figlio maschio forse è questa la ragione forse ci pensò su per un momento non di più perché non era poi così importante per lei sai proseguì mia madre era furiosa per le mie vacanze andate a farsi fottere non usare quell'espressione disse miss rosen perché no lo faccio da quando ero piccola che c'è di male miss rosen lasciò cadere l'argomento sei sempre ostile sulla difensiva dopo essere stata con tua madre è una stronza esplose courtney sappiamo entrambe che non lo pensi davvero disse miss rosen con tono gentile già rispose courtney con voce petulante allora perché l'hai detto perché mi andava sei troppo intelligente per parlare come una ragazzina maledizione io sono una ragazzina sbottò courtney ecco perché detesto stare con la mamma tra noi due sembra che la madre sia io devo tranquillizzarla quando è agitata per avermi sgridata e rassicurarla sulle sue doti di attrice in tutta la mia vita ho visto solo quattro dei suoi film mi basta già vivere con lei non lo so se è brava o no ma le dico di sì perché mi piace vedere la gente contenta devo tenerle la mano ogni volta che nick la lascia anzi la lasciava disse ricordando il passato e devo prepararle quel ghischifo di cocktail se no le viene la tristezza bere da sola e tutto quanto ne ho piene le palle allora anche se non ho mai incontrato tua madre commentò miss rosen so che è una donna piuttosto immatura ma devi accettarlo e cercare di aiutarla è anche una persona molto sola e tu sei l'unica amica che abbia soprattutto adesso che ha divorziato di nuovo tu sei una santa vero commentò courtney amara sei proprio come mio padre è facile per te dire tutte queste cose perché non devi metterle in pratica sono solo un mucchio di sciocchezze miss rosen schivò il colpo si alzò e posò la mano sulla spalla di courtney non c'è bisogno che mi parli a questo modo disse con tono gentile puoi rilassarti quando sei qui non devi attaccarmi per difenderti dalla paura di avvicinarti troppo a me courtney restò a fissare il vuoto con irritazione sapeva che se avesse alzato lo sguardo su miss rosen con la sua mano ancora sulla spalla si sarebbe sentita strana come quando faceva il bagno o si metteva il pigiama la sensazione che ci fosse una folla intera a guardarla una volta mi hai detto disse pensierosa che mi amavi miss rosen ritirò la mano e si sedette sul letto di fronte a courtney sì povera piccola ed è proprio così perché me lo domandi pensi che nessuno possa amarti no a meno che non voglia qualcosa da me notò l'espressione di miss rosen e proseguì sì è quello che penso sinceramente e non dirmi povera piccola non voglio la compassione di nessuno nessuno deve compatirmi so badare a me stessa l'ho sempre fatto e non ho neanche il bisogno di essere amata tanto le persone non mi interessano granché sono fredda eppure abbastanza egoista miss rosen sospirò no che non lo sei ma non ti ho insegnato proprio nulla non so chi o cosa ti abbia messo in testa questa idea ma sei una ragazza molto affettuosa e spontanea e hai tutto il potenziale per diventare una donna in gamba se ti concederai la possibilità di amare e agire da persona matura curtney alzò lo sguardo su miss rosen l'aria di sfida sparita dal suo viso che pareva ora quasi quello di una bambina forse riuscirò a diventarlo se tu mi aiuterai quando sono qui sento di avere qualcosa a cui aggrapparmi da che ti conosco mi rendo conto che si può esprimere il proprio amore fidarsi degli altri senza temere di essere respinti o che qualcuno se ne approfitti miss rosen si accese una sigaretta con la punta di quella che stava fumando perché non aveva alcuna voglia di dire ciò che sapeva di dover dire mia madre ha detto che quando sono tornata a olivo da natale ero talmente diversa che ero irriconoscibile non ero più terrorizzata da lei e non saltavo in aria appena mi chiamava e questo grazie a te disse orgogliosa cercando di suscitare una reazione nella donna sai courtney disse con tono dolente c'è una cosa che volevo dirti sarà molto difficile per me dopo tutte le tue belle parole perché ti amo davvero ma sento che è per il tuo bene vuoi una sigaretta no grazie non fumo cavolo deve essere una roba seria sorrise gli insegnanti offrono sigarette solo in casi estremi a chi ha tentato il suicidio o è stata lasciata dal fidanzato la ragazza cercava di scherzarci su perché aveva intuito che quanto le avrebbe detto miss rosa l'avrebbe ferita mi piace molto la tua compagnia è bello chiacchierare con te perché sei intelligente e ti sono molto affezionata oddio pensò courtney non dire quello che temo ma dovresti passare più tempo con i tuoi coetanei potresti imparare molte cose da loro e ci sono parecchie ragazze in gamba che hanno letto tanti libri quanto te mi annoio con i miei coetanei protestò disperata sono cresciuta con gli amici di mia madre attorno e mi trovo meglio con loro gli adulti sono più interessanti scrutò il volto della donna in cerca di comprensione e tu lo sai è proprio questo il punto disse miss rosen non hai mai imparato a stare con i tuoi coetanei courtney si alzò si sentiva come quella volta in cui aveva scoperto sulle pagine del new york times che sua madre aveva sposato nick russell a hollywood provava la stessa sensazione di una parziale epifania il vago sentore di essere sul punto di perdere una persona che amava intendi dire che non vuoi più che io venga a trovarti la sera che mi sia dal tuo tavolo a messa o che ti parli dopo le elezioni proprio così disse la donna scoraggiata e allora perché non lo dici posso reggere il colpo fece per andarsene miss rosen si alzò courtney la ragazza si fermò davanti alla porta e si girò di colpo forse miss rosen aveva cambiato idea le si avvicinò e la guardò con gli occhi pieni di tristezza si chinò a baciarle la fronte ti prego non prendertela con me disse non avevo scelta courtney non avrebbe mai capito il significato di quella frase ancora non si rendeva conto di tutto ciò che aveva perso provava solo il dolore del distacco e la torpida sensazione che la sua vita non sarebbe più stata la stessa di prima oltrepassò di corsa la cappella ai due cortili perché aveva cominciato a piangere non voleva essere vista janet capì subito che courtney non aveva voglia di parlare continuò a scrivere le sue lettere senza intromettersi nelle faccende personali della compagna distanza quando le luci si spensero sentì courtney piangere sul cuscino ascoltò il suo pianto nell'oscurità per mezz'ora poi allungò il braccio e accese la luce non si può c'è il coprifuoco mormorò l'altra fanculo al coprifuoco rispose janet ti offrirei una delle mie sigarette proibite ma non fumi però ho un'altra cosa proibita che potrebbe esserti utile scese dal letto e prese una boccetta di profumo ha superato tutte le ispezioni annunciò orgogliosa porgendo a courtney la boccetta di profumo piena di un eccellente scotch scozzese ora farrell te lo scoli tutto e te lo fai piacere ce n'è più o meno un cicchetto e non me ne frega niente se ti fa schifo lo scotch disse col tono aspro che si riserva le compagne distanza in difficoltà io stanotte ho intenzione di dormire questo ti calmerà domani mattina mi racconterai cosa ti ha detto quella stronza spense la luce e si girò dall'altra parte